Buon uomo inizio a Poli.it, sempre dal quarto rapporto del Censys e a su gestioni, i risparmiatori oltre la crisi, l'irrazionale nel risparmio. Come si dice adesso, dicono, il buon investimento è solo questione di fortuna. Il 37,4% dei risparmiatori pensa che gli investimenti remunerativi siano dovuti al caso e che i rendimenti dipendono dalla fortuna. Lo pensa il 43,9% di chi è in possesso di un basso titolo di studio, ma anche il 39,2% dei diplomati, il 32,5% dei laureati. L'irrazionale nel rapporto con il risparmio e con gli investimenti, come si vede, è ancora molto diffuso. Per tanti risparmiatori investire è come giocare al superneralotto, contano soltanto il caso e la buona sorte. Il 46,6% di chi non possiede adeguate competenze finanziarie pensa che i buoni investimenti dipendono dalla fortuna, ma anche il 30,8% di chi dichiara di essere competente in materia pensa così. La fortuna, il caso. Io non credo sia così. Io sono Maurizio Poli, educatore consulente del finanziario. Se vuoi saperne di più ti lascio i miei contatti qui nel video. Non è la fortuna, non è il caso. Alla prossima!